Cavalletto 8, niente di particolare. Grazie. 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 Forza Falconara, sarà per la prossima volta. Arriva. 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 Qui il giocante. Vai, vai, vai. Vai, vai. Brava. Ti dico bene. Sì. Oh. Io, 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 io. Ehi, ehi. Basta. Ah. 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 Nowa. Ah. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 stavate in barrigatini civili non si sa fare i guardi 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 si sa fare i guardi super mogi Grazie. 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 Sì. Vai, Giacubino. Insaniamo la chino del marchettore. Grazie. Ma siete in falconare o il polo esse? C'è stato, dai vabbè, un di qua, un di là, un di qua, dai. Vabbè, ha municato, ha munito anche questo. Noi, insomma, gli aveva dato più di lui. Noi, insomma, gli aveva dato più di lui. Dai, chi la fave? Oh, Pasqualina, la foto da macchina è la tua, qui nel parcheggio. Dai, vabbè, fino alla data la patente. Forza Leo! Forza Leo! Forza Leo! Forza Leo! Circa due minuti alla fine. Arbito due minuti. Grazie. Vabbè. 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 Grazie. E' laterale giallo, forza! Abito è finita, eh! E' finita, abito! 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 ScrivStop! E' finita, abito! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 20. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.